allora dottor salusti c'è bisogno di tensioni di emozioni c'è bisogno di appagare questa parte inconscia di noi che richiede di sentirsi viva a questo punto giusto assolutamente e se per sentirsi viva questa parte inconscia di alcune persone ha necessità di emozioni crudeli cruente che provocano del male ad altri e c'è a livello razionale una pseudo consapevolezza di questo che fare perché le parlo anche di patologie diciamo di menti non sempre semplici e però ce ne sono in giro è perché non è che viviamo in un mondo di santerellini assolutamente no allora le situazioni sono due o sei arrivato a un punto che veramente sia la frutta io quando vai dal dentista e hai la piorrea la domanda che ti fa il dentista ma scusi poteva pensarci prima perché la piorrea non è che insorge da dall'oggi al domani la piorrea interviene nel tempo allora quando tu arrivi a un punto in cui sei bloccato e di disagio che diventa insopportabile non è nato il giorno prima ma è il frutto di una successione di eventi che ti hanno portato a quella situazione allora noi possiamo fare due cose prima in prima battuta un'opera preventiva per quando ancora stai tra virgolette bene solo che quando stai bene non ci pensi noi alla mattina non ci alziamo mai per dire che ben di testa che ho mai ci alziamo solamente quando accade che abbiamo mal di testa che mal di testa che ho ma tu la tua condizione normale è il ben di testa e quindi sarà il caso di prendersi cura di quest'altra parte di noi onde evitare che quest'altra parte di noi come un cane randaggio sia costretta a nutrirsi di polpette avvenenate e quindi di tensioni tra virgolette tossiche per fare questo che vuol dire anche sempre emozioni più forti perché a questo punto tante volte sono anche forti tensioni che possono servire allora tensioni l'opera preventiva uno dei suggerimenti che io do io non do consigli io do suggerimenti io non sono un saggio sono una persona curiosa uno dei suggerimenti che do è quello di mettersi in gioco e quindi di andare volontariamente a vivere delle tensioni che e quindi evitare di evitare cosa significa questo significa che la vita normalmente ci penalizza quindi ci crea tensioni allora come impedire che la nostra parte emotiva prenda prevarichi la nostra parte logica e ci impedisca di essere efficaci quindi di mantenere un equilibrio di mantenere un'armonia e come si fa si fa si può fare dando alla tua parte dando alla parte emotiva quello l'elemento energetico di cui ha bisogno che sono le tensioni che io chiamo penalizzazioni perché le tensioni possono penalizzare la parte logica e ma che tipo e in che grado e quali come interpellarla di nuovo questa benedetta parte emotiva allora la b e sono la via è quella di andare a vivere volontariamente delle piccole tensioni facendo cose che normalmente ci creerebbero tensione però non angoscia delle piccole tensioni e quindi penalizzandoci quindi compiendo delle azioni che a volte possono essere considerate insensate ma non hanno senso per la logica ma sono profondamente sensate per l'emotività perché vanno comunque a compensare quindi penalizzati vivi volontariamente delle piccole tensioni evita non evitare quello che normalmente eviti e sono delle azioni a volte considerate potrebbero essere considerate stupide perché sono senza senso perché sono illogiche senza senso per uno però possono avere senso per un'altra persona magari le faccio un esempio facciamo gli esempi se tu normalmente sono persone che sono imbarazzate nel fermare una persona per strada e si fermano la persona per strada solo quando ne hanno veramente l'esigenza quindi le penalizzazioni vanno devono essere prescritte tra virgolette personalizzate e se la persona vive un imbarazzo un disagio nel fermare una persona per strada quale può essere un'azione penalizzante per questa persona fermare volontariamente una persona per strada quando non ne ha bisogno in quel compiendo questa azione priva di logica senza senso perché non ne ha bisogno in quel momento quindi non riguarda la logica però vive una piccola tensione questa piccola tensione che vive è come se tu mettessi nel banco matanalogico chiamiamolo così nel banco delle emozioni versassi dei soldi e quindi se un altro esempio che faccio la notte prima degli esami tu devi affrontare una situazione tensionale però la devi affrontare allora temi che in questa situazione una parte di te la tua parte emotiva possa prevaricarti e possa renderti meno efficace meno efficiente allora che fare prima per prevenire dai alla tua parte emotiva quella di cui ha bisogno e quindi viviti una tensione la tua parte emotiva non sarà più costretta a ricorrere a quella situazione particolare per crearti una tensione oltremisura che è disturbante per la parte logica ma è gratificante per la parte emotiva quindi vuoi crearsi un'altra tensione o superiore alla tensione no 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 non superiore deve essere una piccola tensione se tu all'interno di una situazione vivi potresti incontrare una tensione 8 in una scala di valori da 1 a 10 allora quella stessa tensione si relativizza se io vivo preventivamente una tensione 3 diventa 5 8 diventa 5 quindi trovarsi e quindi riuscirò a gestire meglio quella tensione certo questa è però è una una strategia ma per sé che serve a far capire che noi dobbiamo rispettare la nostra parte emotiva quindi dobbiamo darle quello di cui ha bisogno perché se non glielo diamo se lo prende dove noi non vorremmo che accadesse e allora ci sono perché accade questo perché noi siamo portati a evitare perché le dicevo prima la logica il primo obiettivo della logica è evitare la sofferenza di evitare il disagio e quindi siamo abituati a stare possibilmente più fermi dell'acqua e più bassi dell'erba ecco ultimi siamo in chiusura ultimissima cosa le persone invece che non fanno questo ma al contrario cercano tutte queste situazioni che dicono ma vivi nello stress totale no dalla competizione agonistica le prove estreme eccetera che cosa hanno e quello è un è un meccanismo compulsivo quindi un disturbo un disturbo doc un disturbo in termini tecnici un disturbo ossessivo compulsivo pensi ai giocatori infatti non stavo pensando a questo quelli attaccati alle macchinette mangiasoldi e lì interviene un fattore emotivo emozionale la logica ti dice non farlo ma è ovvio che il risultato sarà una perdita ma l'inconscio invece ma l'inconscio si aggancia giocatore non si aggancia alla vincita si aggancia alla perdita perché in quel momento vive un'emozione e quindi ti porta la tua parte emotiva ti porta a siccome questo è l'unico elemento che gli viene fornito e ti inchioda davanti a quella macchina quindi trovarne altri di sostituzione e quindi la via qual è è quella di cambiare delle abitudini ma per cambiare le abitudini occorrono due cose primo la volontà della persona e secondo un metodo il metodo è quello di andare a conoscere le esigenze della nostra parte emotiva torniamo a questo discorso perfetto dottore il tempo sarebbe il caso di parlarne ancora chissà per quanto tempo però noi non ce l'abbiamo più purtroppo la ringraziamo moltissimo di questi supporti che ci ha dato di questi aiuti anche a comprendere meglio noi stessi anche se non è così facile ed è necessario naturalmente essere supportati in questo da chi riesce a farlo buon lavoro dottor Sallusti grazie a lei grazie a voi di averci seguito e come sempre appuntamento domani